Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Ieri sera qui alle mie spalle siamo stati i giochi artificiali per festeggiare il nuovo anno. Ora vi lascio a una breve clip, all'incirca una quarantina di secondi, per farveli vedere. Vi auguro ancora buon anno e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Grazie! Grazie!